logonauti come parlare e argomentare bene insieme esploreremo i mondi della retorica e le galassie della parola in un mondo dove le parole sono lasciate al caso il logonauta domina la propria comunicazione il logonauta costruisce un pensiero lo organizza e lo trasferisce nel modo più efficace possibile più di un videocorso più di una community logonauti è una nuova dimensione in cui riprendere il controllo di parole e pensieri parti con noi diventa anche tu un logonauta